Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo qui sulla strada per andare al Bosco di Cerano Siamo io e Emanuele che sta riprendendo E altri tre ragazzi che sono andati più in là Che abbiamo detto che poi li raggiungiamo appunto per fare la intro Allora ragazzi, ora oggi che faremo faremo un po' di enduro e mountain bike Quindi sarà veramente un'esperienza molto molto bella Siamo anche in compagno degli altri quindi divertimento assoluto Molti di voi mi hanno consigliato di non parlare tanto nei video Sinceramente ho pensato anche io che magari potrebbe venire anche meglio senza parlare Quindi adesso farò un veloce timelapse e appena arriviamo là continuerò il video Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti Ok ragazzi siamo arrivati dopo un bel po' di tragitto e il posto si presenta molto bello e avventuroso Questo è il gruppo, lui è Giuseppe, Marco, Antonio e c'è Emanuele di là Adesso ragazzi metterò molto probabilmente una musica di sottofondo Quindi prendiamo un po' di rincorsa e poi andiamo a tutta velocità per i boschi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti